Dicembre, mese di guerra, ma io che sono papante, aprisco le porte sante per tutta quanta la terra. Memoro l'anno passato, travagliatissima sorte, aprendo le sante porte di tutto quello che è stato. Anche oggi forse si può parlare di una terza guerra combattuta a pezzi, con crimini, massacri, distruzioni. Caino direbbe sono forse io il custode del mio fratello. Aprile e Porta Santa si ammazzavano a Parigi, io gliel'avevo detto che iniziavano tempi bici. La terza guerra gliel'ho predetta, davvero era molto meglio se mi avessero dato retta. La guerra è cosa seria, la tizza la miseria, ma non capisci niente chi combatte cosa, si sbriciola l'occidente, la storia è pericolosa. Ho chiamato al giubileo per rimettere in corteo. Messa dopo messaggio con la mia mano, a partire dalla scommessa l'occidente si è cristiano. Apro la Porta Santa a maggio e giugno degli africani che si gettano nel mare, che si incaglia nei balsi rossi. La terra promessa mantiene poco, ma c'è una differenza tra una guerra ed un trasloco. Apro la Porta Santa all'oglio dei siriani, sarebbero musulmani che li cacciano i musulmani. Angela Merkel li prende in casa, l'Europa capisce meglio che succede qualche cosa, che la cosa è dura, che la cosa è seria, che la guerra porta in casa la paura e la miseria. Apro la Porta Santa a combattenti si diventa, taglia gole in Libia, martiria a Palmira, coi turchi fanni furbia e vanno dove il vento gira. E messa dopo messa l'aviazione russa rompe il doppio gioco, cogliela da una scossa il califo trema, perdono il terreno. Gli attentati in Francia sono la rabbia che si scatena ed è davvero tanta. Apro la Porta Santa la Francia in guerra e quindici giorni dopo poi arrivano Inghilterra coi russi che dall'alto accompagnano i siriani e i turchi che per rispetto gli abbattevano gli aereoplani. L'Occidente in guerra ci è voluto un anno, ma che siamo in guerra tutti ormai lo sanno. Apro la Porta Santa quella gialla e quella verde, è chiaro che una guerra la si vince o la si perde. Se mi guardo indietro dalla Porta di San Pietro, dico ci ho provato a dare un ordine ai soldati. Non ti dico una divisa, non ti dico una bandiera, ma il fatto di riferirsi a qualche idea che pare sentira. Siamo partiti scarsi con le ruote a terra, alla fin dell'anno si può dire che siamo in guerra. Bene dico a tutti quanti dalla Porta di San Pietro e vado avanti perché non si torna indietro. Si cammina sopra il vetro col mal di cuore, la stiamo vedendo brutta e tra non molto sarà peggiore. Comunque avanti tra guerrieri e santi e vai con i cantanti mentre batto la Porta Santa. Apro la Porta Santa. Apro la Porta Santa.